Buongiorno a tutti. Perché ci sono dei lavori in corso qui nella nostra emittente, lunedì ritorneremo nel solito studio, quello tanto caro per esempio al nostro compagno di viaggio e d'avventura Aldo Cennamo, che ringraziamo per aver accettato l'invito, oggi giochiamo a due in mezzo al campo perché abbiamo Luca Ottomare, grazie Luca che è stato con noi, compagno di viaggio anche lui lo scorso anno, per tutta l'intera stagione insieme a Walter Leone e al collega che salutiamo, giochiamo a due in mezzo al campo perché siamo oggi, un po' come dire Aldo, dobbiamo arrangiare, ci dobbiamo arrangiare, quindi lunedì prossimo torneremo nel solito studio e parleremo di tante cose, parleremo un attimino di quella che è stata l'ennesima sconfitta del Crotoni in casa contro il Cagliari per 2 a 1 e poi parleremo, daremo spazio naturalmente a quello che è successo in Lega Pro con il pari interno del Cosenza contro il Fondi Unicusano degli ex Ticione Calderini, Gambino che è rimasto in panchina per 2 a 2 parleremo poi del bel pareggio della Regina Castellammare di Stabbia contro la Juve Stabbia per 3 a 3 e poi anche della Vibonese e a tal proposta dovremo avere una diretta telefonica con l'allenatore Sassà Campilongo della Vibonese perché non è andata giù al Presidente Caffo che è stato l'unico a parlare poi a fine partita di quello che è successo, un rigore che probabilmente non c'era, un'espulsione di Silvestri che probabilmente non c'era, un gol in fuorigioco, vedremo le azioni anche a replay insomma ne abbendonde poi sia Campilongo che il Presidente Caffo per lamentarsi e vedremo quello che ci dirà poi telefonicamente e naturalmente parleremo dicevo della sconfitta del Catanzaro, la prima della gestione R 1 a 0 a Taranto e allora vogliamo parlare caro Aldo un attimino di questo crotone, di questo andiamo ad introdurre il discorso crotone ormai danno tutti anche gli addetti ai lavori per spacciato la formazione di Nicola anche se c'è un'altra chance in casa contro il Sassuolo, però perdere contro il Cagliari insomma Beh Franco, io speravo da Calabrese e da Tifosi anche del Crotone che queste due partite in casa, quella con il Cagliari ieri e quella che dovrà essere fatta domenica col Sassuolo si poteva tranquillamente portare a casa i sei punti, se avesse vinto ieri e l'altra col Sassuolo che sarà fra una settimana probabilmente con l'embole che non riesce a schiodarsi da quella posizione di classifica probabilmente il Crotone avrebbe avuto molte più chance di salvezza oggi, oggi onestamente, dopo la sconfitta di ieri con il Cagliari secondo me le possibilità sono ancora di più ridotte ed è un peccato che una squadra calabrese che è approdata in Serie A con tanti sacrifici perché ha una società molto molto seria, una società importante, un presidente, un direttore generale importante che purtroppo probabilmente il prossimo anno dovrà di nuovo ritornare in Serie B è un peccato, io pensavo che in queste due partite poteva fare vedere le sue possibilità di salvezza purtroppo ieri vinceva 1-0, si è fatta rimontare c'è questa col Sassuolo però bisogna sperare che l'Empoli non ci schioda e rimanga lì per altre tre o quattro partite ma mi sembra un po' difficile sembra un po' difficile, diceva il nostro amico Aldo Cennomo Luca, allora, in questi casi quando non vanno bene le cose sul campo per il Crotone tu hai giocato anche ad alti livelli è stato messo anche sul banco degli imputati l'allenatore Nicola ma un giocatore, ecco, l'allenatore deve intervenire a livello psicologico per cercare praticamente di rimettere in pista una squadra che ormai ha subito tantissime sconfitte, secondo te dove bisogna intervenire per cercare di invertire la rotta? se si può invertire la rotta ma invertire sarà difficile ma perché comunque il Crotone sta pagando lo scotto dell'inizio di campionato dove ha raccolto pochissimi punti nel genere di ritorno invece ha cercato di dare un senso al campionato facendo delle ottime prestazioni anche se non ha raccolto punti importanti è difficile, molto difficile ma perché prevalgono limiti tecnici non indifferenti vedi la partita col Cagliari vincevano a zero dopo un errore del difensore non ricordo il nome un errore tecnico lì una palla da rinviare gli è rimasta lì e hanno subito l'1-1 ha avuto una buona occasione per riportarsi in vantaggio se non sbaglio Falcinelli il secondo tempo è a tu per tu col portiere e l'ha mandata fuori quindi sono quegli episodi e sono quei limiti tecnici che una squadra ovviamente ha e diciamo che poi la classifica rispecchia quello che sta facendo il Crotone io credo però conoscendo l'allenatore che non molerà fino alla fine è giusto che sia così perché è un professionista perché ha una rosa di giocatori professionisti una società che ovviamente fa dei sacrifici e quindi è giusto che questo campionato debbano giocarlo fino a che ovviamente la matematica retrocessione non arrivi io penso che troverà le giuste saprà muovere le giuste corde nei giocatori per riuscire a tirare fuori quello che ovviamente tutta un'intera tifoseria si aspetti è quella di onorare fino all'ultimo la maglia e il nome di Crotone in giro per l'Italia Benissimo, benissimo onorare diceva Luca Ottomare il nome di Crotone in giro per l'Italia e poi eventualmente retrocedere con grande dignità se così dovesse essere noi ci auguriamo il contrario e allora se siamo pronti dalla regia io intanto vado a ringraziare Enzo Leonetti che come al solito è in regia con noi poi Giuseppe Costanza l'ha messo in onda e poi c'è anche il nostro Michele Cava alle camere detto questo io andrei a vedere quello che è successo in Lega Pro in modo tale che andiamo poi a vedere anche la classifica generale e andiamo ad inontrarci appunto e a parlare nel dibattito iniziando proprio da quello che è successo a San Vito Marulla per il 2-2 tra Cosenza e Unico Sanofondi vediamo un attimino i risultati che si sono registrati nel fine settimana Enzo Leonetti grazie eccoli qua allora da Grigento il Foggia ha battuto l'Agragas per 1-0 con un gol di Di Piazza e lì c'è stato anche un po' di caos perché Di Piazza è un ex di turno eccetera sembra che abbia sultato casertana Francavilla 1-0 Cosenza Fondi 2-2 poi Juve Stabia-Regina 3-3 Piro Tecnico questo risultato la Regina perdeva 3-1 poi è riuscita prima a ridurre le distanze Bangù, De Vito e Leonetti 3-3 Lecce batte Vibonese 2-1 e qui dovremo poi parlarne con il tecnico della Vibonese Sasà Campilongo a Matera il Siracusa ha battuto il Matera per 4-0 parleremo anche di quello che è successo a Matera un'aggressione a due giocatori che sono state ricoverate in ospedale il portiere Bifulco è Carretta l'attaccante del Matera all'esterno che si è fatto poi espellere dopo 15-16 minuti del primo tempo a Melfi la Paganessa ha battuto il Melfi per 4-0 il Catania nel derby giocato ieri ha vinto 2-1 contro il Messina derby siciliano poi in Monopoli Fidelisandi a 1-1 e tanto batte Catanzaro 1-0 per una classifica che vede al comando la vediamo subito c'è sempre il Lecce di Padalino in cima alla classifica con 58 punti Foggia 56 Matera insieme alla Juve Stabia 49 Francavilla 45 Catania 39 che ha un meno 7 amici carissimi insieme al Fondi al Cosenza e alla Casertana poi Fidelisandi a 38 Siracusa a 38 si stanno avvicinando tutti per quanto riguarda settimo, ottavo e nona posizione anche la decima Paganesse 33 Monopoli 30 Taranto 28 Messina 27 poi nella zona purtroppo calda play out ci sono le tre squadre calabresi esattamente Catanzaro e Regina con 24 insieme all'Akregas la Vibonese 19 e il Melfi con 17 punti allora torniamo in studio e io direi di andare a vedere quello che ci ha lasciato Gianluca Pasqua che oggi non è con noi è fuori sede è impegnato fuori sede vediamo un attimino quello che è successo al San Vito appunto tra il Cosenza e l'unico sano fonti di mister Pocchesi andiamo dalla regia Leonetti, grazie le solite pause e la solita reazione anche contro il Fondi il Cosenza va sotto e recupera costruisce le occasioni per il sorpasso ma subisce un gol del fardo e chiude la rimonta con il pareggio del solito Dorazio il copione a San Vito di Dimarulla è lo stesso delle ultime uscite prestazioni di tutto cuore e coraggio errori individuali e finali da brivido l'avvio della squadra di Pocchesi è positivo i laziali provano a fare la partita e si avvicinano alla porta di Perina i lupi rispondono con Meroni che sfiora il colpaccio con un colpo di testa ma sono gli universitari a sbloccare la gara Galasso mette al centro e l'ex Calderini il più lesto arriva lì in rete sulla respinta di Perina non esultando per rispetto alla tifoseria che lo ha acclamato per due stagioni i rossoludi e De Angelis riordinano le idee e creano subito una buona occasione che Mendicino spedisce oltre la traversa ma il gol è solo rimandato per il supermendo il tiro di Cavallaro si spegne sul palo l'exiene lì e segna il pari nel finale di frazione Cavallaro si esibisce in un pezzo di bravura saltando due avversari e conclude a rete trovando Baiocco reattivo la ripresa comincia con un nuovo acuto rosso-blu capece lancia Cavallaro che colpisce ancora il legno Marino rischia l'autogol ma sventa il pericolo ed ecco il solito passaggio a vuoto dei lupi che subiscono il nuovo svantaggio firmato Calderini una spina nel fianco il Cosenza accusa il colpo e rischia il tracollo De Angelis tenta il tutto per tutto ma i rosso-blu di casa stentano a trovare lucidità e spazzina difesa ospite ci vuole un colpo di fortuna la Dea si toglie la benda e bacia Dorazio che fa centro con un tiro cross non è finita il fondi sfiora il tris con Bombaggi ma Perina dice no al Marulla è ancora 2-2 tra i fischi e allora vogliamo partire dal discorso tecnico poi invece partiamo caro Aldo continuiamo con te con quello che è successo nel dopo partita anche a fine partita quando la squadra è stata fischiata dal popolo rosso-blu dagli ultra erano arrivati i giocatori a salutare come sempre sotto la tribuna e sono stati rimandati negli spogliati a voi dal popolo rosso-blu che ha contestato in maniera civile come sempre andati a lavorare andati a lavorare questo è stato il grido finale accompagnato naturalmente dai fischi partiamo con Luca Ottomare che gara hai visto tu eri al San Vito Marulla Luca sì ho visto la partita che partita è stata è stata una partita comunque che pensavo la facesse di più il Cosenza all'inizio credo 10-15 minuti una squadra che giocava a specchio quindi 4-3-3 con un 4-3-3 in fase di possesso invece il Fondi ruotava Giannone dietro i due centrocampi e quindi si posizionava con un 4-2-3-1 lì penso che abbia un pochettino messo in difficoltà sul lato sinistra del Fondi destro del Cosenza diciamo l'hanno fatta più di là la partita con Calderini è stata una partita comunque che sfruttando meglio le occasioni avute il Cosenza poteva anche poteva anche vincerla però gli episodi a volte sono dalla tua parte se te li porti dalla tua parte ovviamente loro sbagliavano il Fondi le occasioni avute le ha avute tant'è che il presidente poi a fine partita su una pagina del Fondi che c'è sempre su Corriere dello Sport ha detto di avere buttato alle ortiche praticamente la vittoria lo stesso Pocchesi dice la mia squadra non è abituata a difendersi è una squadra che non subisce mai un'ammunizione c'è stato solo Mungo ammonito infatti nel corso dei 90 passaminuti dice però non si sa difendere siamo propositivi però abbiamo queste lacune in difesa è una partita che è stata giocata non c'è stata una squadra che ha difeso e magari ha preferito ripartire su palle rubate il Cosenza da quello che ricordo anche l'anno scorso è una squadra a cui manca quest'ultimo passaggio io l'anno scorso mi ricordo mi soffermavo su Arrighini sui movimenti che aveva da punta vera però gli arrivavano o troppo in anticipo o troppo in ritardo quindi ovviamente l'attaccante a quella frazione di secondo che se gli arriva la palla a tempo giusto è normale riesce ad esprimersi meglio e la stessa cosa è successa al primo tempo ci sono state due tre occasioni di statella che se avessero dato la palla col tempo giusto si sarebbe trovato in porta e probabilmente non è un bel periodo caro Luca per il Cosenza se mi date la camera perché nelle ultime quattro partite su 12 punti a disposizione ne ha raccolto solamente tre frutto dei pareggi nei derby con appunto Vibonesi e Regina poi il Cosenza ha perso a Frangavilla dopo aver giocato un ottimo secondo tempo meritava sicuramente come ha sempre poi sostenuto il tecnico Stefano De Angelus qualcosa di più e poi il pari interno contro appunto l'unico Sanofondi alla fine il Cosenza poteva anche perdere lo ha detto anche il tecnico in sala stampa perché il Cosenza commette sempre degli errori individuali questa volta è toccata a Dorazio la volta precedente a Blondette poi ancora con Catanzaro a Blondette poi a Caccetta con la Regina cioè come se e come dire questi errori poi mettessero in croce l'allenatore o il Cosenza stesso perché in effetti poi gli avversari riservi a noz e vanno in gol con una facilità incredibile detto questo io volevo far intervenire ad anzi prima c'è un messaggino da leggere perché l'ha mandato il direttivo scusatemi un attimo del Antonello aprile del Cosenza nel cuore dice adesso basta non è possibile vedere e rivedere errori e nefandezze di alcuni giocatori che stanno mettendo a rischio le sorti di questo campionato scendendo in campo con sufficienza parla di dilettanti con un bel punto esclamativo pretendiamo una forte decisapresa di posizione da parte della società del Cosenza Calcio e se del caso mandare tutto il ritiro questo è il messaggio che è arrivato dal Cosenza nel cuore dal consiglio direttivo caro Aldo la piazza è un po' in fermento poi parleremo anche di questo disamore perché vorrei coinvolgere anche Luca Altomare che è il reddice dall'esperienza di Avellino 900 paganti forse abbiamo toccato il minimo storico in questa stagione la gente è disamorata non viene più allo stadio l'obiettivo che si allontana il presidente era partito con quella frase quest'estate dicendo che il Cosenza per lui avrebbe disputato un campionato di vertice ambizioso al momento i fatti però dicono il contrario speriamo che nelle ultime 10-11 partite che restano nel Cosenza si possa inserire in un come dire in un posto di classifica magari dove il presidente aspira così come tutta la dirigenza il DG Federico eccetera e poi stavo dicendo insomma il popolo rosso-blu sta notando che purtroppo c'erano determinati calciatori che forse non stanno rendendo per come avrebbero dovuto qualcuno che magari ha tirato troppo la carretta allo stesso De Angelis da parte del collega Pippo Gatto che salutiamo e di qualche altro gli è stato chiesto se nello spogliatoio c'è qualcosa se c'è una polveriera se c'è una spaccatura lui ha detto no non esistono queste cose assolutamente però insomma i vox popoli vox dei diamo la pensiera e parole all'amico Aldo Genomo perché sicuramente ne sa più io mi sento di condividere appieno il comunicato fatto Cosenza nel cuore Cosenza nel cuore perché perché solo chi non partecipa alla vita cittadina io spesso vado a passeggiare a Cosenza a Corso Mazzini ieri e oggi il clima è quello lì quello espresso su quel comunicato che va condiviso e va tenuto in grande considerazione ci sono onestamente dei fatti ingresciosi che non devono e non possono non preoccupare una società e soprattutto il presidente del Cosenza che è persona seria persona che sta dando tanto sta facendo tanti sacrifici si sta si sta accomunando una serie di cose e di problemi che probabilmente però devo dire che l'impegno mi assumo tutta la responsabilità di quello che dico in campo hai fatto bene a sottolinearlo perché io lo scrivo sul Corriere e lo dico in televisione tu lo stai dicendo da ospite hai fatto bene a sottolinearlo l'impegno non di tutti perché sarebbe sciocco da parte mia a debitare la compa di alcuni calciatori in campo e quello che c'è nel comunicato c'è onestamente una una un'insufficienza nel nel comportamento e anche nel modo di esprimersi in campo cioè io ho notato anche dei particolari perché io sono uno attento a queste cose anche perché quando si va in televisione a parlare bisogna avere il coraggio di dire le cose come stanno e di non fare l'invingimento è chiaro che c'è anche gli avvoltoi in città in alcune televisioni che aspettano questi momenti per cercare di aggredire una società o un cosenza che sta facendo sacrifici però onestamente se qualcuno se uno non se la sente di dire alcune io ho notato che anche quando si fanno i cambi tra i giocatori non ci si scambia neanche uno sguardo cioè è strana questa cosa cioè ieri i tifosi hanno i tifosi quei pochi tifosi che sono secondo me gli eroi perché ieri ci sono eroi a cos'è ci sono 900 ragazzi che sono andati allo stadio a rifare in quella maniera perché lo stadio era vuoto si vede si vede proprio che c'è uno c'è uno squallore franco nel senso che la gente non va non è più affezionata perché sa che lo spettacolo è quello che è insomma ieri i tifosi hanno dimostrato hanno detto le cose che dicono sui marciapiedi di cosenza non c'è marciapiedi dove non si dice che sicuramente non sarà vero perché non siamo io non penso che siano veri ci dice che c'è scarsi impegno e che i giocatori non fanno una vita come dovrebbero fare c'è tutta una situazione che va andrebbe se è vero quello che si dice il chiacchiericcio purtroppo c'è lo dobbiamo quando si perde magari le cose non vanno bene e noi lo dobbiamo riportare a Cosenza come c'è stata da Vellino come c'è da Catanzaro a Reggio da tutte le parti lo dobbiamo riportare perché altrimenti faremo violenza alla nostra intelligenza e per dare anche forza al Presidente che onestamente non si aspettava di trovarsi con un Cosenza che è al sesto posto in condominio con altre tre squadre quindi potremmo essere novi con il Siracusa e l'Andria che è a 38 ad un punto domenica sabato avremo la Paganese che è a 33 punti rischiamo se non andiamo a Pagania a giocarci una partita come Dio comanda con il coltello tra i denti di farci anche rusicchiare dalla Paganese rischiamo di arrivare non un dicesimo ma rischiamo di arrivare tredicesimo o quattordicesimo cioè in effetti adesso il Presidente deve prendere in mano la situazione come sa fare lui e deve essere manager non solo nella sua azienda come lo è alla Grande ma soprattutto deve essere nel Cosenza deve essere adesso non autoritario ma deve dimostrare la sua autorevolezza nel senso di andare a vedere a verificare se è veramente io credo che non sia così però lo dobbiamo dire se è veramente nello spogliatoio c'è qualcosa che non funziona io lo dissi già in tempi non sospetti quando c'era l'amico Rosselli parlavi di spaccatura che c'era questa situazione che avrebbe alla fine pagato Rosselli perché è sempre così però questa volta penso che al posto di pagare il povero De Angel che è un giovane che ha bisogno anche lui di stare tranquillo di avere uno spogliatoio armonico come Luca meglio di me sa deve prendere le sue decisioni deve andare subito al fondo affondare il bistone e far capire ai giocatori che il cosenza come società c'è e se qualcuno sgarra questa volta va a casa tranquillamente oppure viene messo va mandato in tribuna come ha fatto la Juventus con Bonucci Franco una partita delicata con il porto ha mandato Bonucci in tribuna solo perché Bonucci si era permesso di dire ad allegre alcune cose che il giocatore non deve fammi sentire Luca Altomare fammi sentire Luca Altomare su quello che ha detto su quello che ha detto Aldo Ceno non lo voglio dire Franco perché altrimenti non ci può fare ci mancherebbe altro le cose riscriviamo un sacco di mail e di messaggi non possiamo leggerle tutti però la situazione voglio dire è condivisibile tutto anche l'appunto insomma lo sfogo di Aldo diciamo che passiamo da un eccesso all'altro Cosenza abbiamo parlato della Juve lì c'è un codice etico stiamo parlando comunque di una società che prende calzatori che ovviamente sanno che lì ci si deve comportare ma quello serve l'esempio ma non serve a certi livelli sai come ci struttura una società quelle scelte non vengono fatte per dare l'esempio alla squadra quello viene fatto per dare un esempio a tutto l'ambiente a partire dalle scuole calcio quindi crescono con quegli esempi se quegli esempi vengono soffocati e vengono presi e fatti capire i ragazzi del settore giovanile crescono già con quel codice hai capito Aldo quindi a parte questo che ovviamente si era parlato è una piccola digressione una piccola parentesi apriamo e chiudiamo subito torniamo a parlare del Cosenza ovviamente sono momenti che a Cosenza sono sempre passati ma è normale è una squadra che è una società gloriosa e ovviamente sta attraversando un periodo difficile ma io sinceramente come giusto che sia sono fiducioso sono fiducioso soprattutto nel direttore sportivo perché è un mio carissimo amico ci ho condiviso tante partite tante battaglie e quindi so il professionista so la persona so che ci tiene è venuto a Cosenza con un grosso entusiasmo con la consapevolezza che non sarebbe stato facile e sono convinto che riuscirà a risolvere i problemi qualora ci fossero da quello che diceva Aldo interni sono fiducioso che poi ha smentito nel dopo partita come dicevo De Angelis poi invece sentiremo l'amico Ladino Valotti quello che ha detto poi in sala stessa sono fiducioso anche Stefano perché comunque è un ragazzo che conosco ho giocato insieme a lui abbiamo fatto il corso insieme e quindi è un allenatore che ha una gran voglia di emergere una gran voglia di mettersi in discussione e quindi è giusto avere fiducia è normale che quando si subiscono si prendono dei gol come quelli che sta prendendo nell'ultima giornata il Cosenza non è giustificabile sono errori di testa non credo che di concentrazione si mi riferivo a quello quindi un calciatore calciatori esperti come Caccetta come come Blondet come Tedeschi c'è incappare in errori facciamo gli auguri a Luca Tedesco al capitano perché oggi compie 30 anni quindi ha fatto 102 partite 103 con Cosenza e oggi compie 30 anni quindi auguri è stato sabato capitano proprio perché Caccetta si è accomodato in panchina poi continuate dicevo quindi incappare in errori così grossolani è un che sono secondo me solo e discursivamente di testa quindi è lì che sicuramente lavoreranno sia Ladino che De Angelis e mi spero e spero e auguro che ritornerà tutto questo grosso diciamo problema che ci sta attanagliando un po' la squadra bisogna guardarla sempre con ottimismo io la guardo così col bicchiere mezzo pieno come dice anche Stefano De Angelis e allora ci fanno sogno dalla regia possiamo andare immediatamente in pubblicità restate con noi perché poi sentiremo Ladino Valotte e poi avremo al telefono Sasà Campilongo allenatore della Vibonese che ci parlerà della parte alta e della parte bassa dove è invischiata con la Vibonese e parlerà anche di quello che è successo a Lecce perché insomma non possiamo non trattare questo argomento pubblicità grazie seconda parte di replay di lunedì 27 febbraio 2017 stavamo parlando con Aldo Cerno e con Luca Altomare della situazione del Cosenza Calcio o di quelle che sono stati gli ultimi risultati non certamente positivi si è parlato di crisi appunto di risultati non certamente di gioco anche se qualcosa non ha funzionato a dovere come ha detto anche in sala stampa a fine partita il tecnico Stefano De Angelis e siccome Luca Altomare ha parlato e ha tirato in ballo a Ladino Valotte il direttore sportivo del Cosenza io direi caro Enzo Lunetti di andare ad ascoltare e far ascoltare la voce del direttore sportivo vediamo e sentiamo quello che ha detto Ladino Valotte grazie andiamo subito ma noi gli ultimi 20 minuti eravamo un pochettino in difficoltà eravamo in difficoltà perché abbiamo giocatori abbiamo forzato dei cambi che sono stati dettati un po' da quella che è stata la settimana un po' stanno a Mendicino ha giocato con un problema alla spalla Baclet è entrato che anche lui ha fatto un allenamento e mezzo Meroni è un ragazzino che bisogna fargli solo che i complimenti per quello che ha dato tutto però dopo un quarto d'ora del secondo tempo non aveva più ma questo è anche un aspetto perché è un ragazzo che ha sempre lavorato molto molto bene è anche un aspetto a volte mentale una delle prime partite un 97 per cui ci sta una partita importante con un giocatore importante per cui penso che sia anche un discorso psicologico è entrato Madrigali che ha fatto forse una o due partite e tutto sommato è entrato bene quegli ragazzini che sono i ragazzi che sono entrati hanno cercato di dare tutto però siamo arrivati secondo me con un po' di riserva di benzina per cui penso che gli ultimi 20 minuti siano dettati un po' da questo sicuramente una squadra l'ho già detto una squadra che ancora non sta secondo me interpretando bene quello che è la crescita e le potenzialità che ha o meglio lo sta facendo a sprazzi perché secondo me abbiamo fatto delle signori partite con Matera e anche domenica scorsa abbiamo sofferto magari in altre occasioni abbiamo cambiato a volte anche il modo di giocare perché rispetto a come hanno sempre giocato adesso si sta giocando in modo diverso per cui bisogna solo che prendere questo punto prendere la cosa positiva del 2 a 2 e continuare a lavorare perché non conosco altra medicina non conosco altra medicina diceva Ladino Vallotti bisogna continuare a lavorare mi pare che erano le parole di Luca Altomare guardare il bicchiere mezzo pieno perché può capitare a tutti sta capitando al Matera quattro sconfitte consecutive dicevo all'inizio durante la presentazione degli ospiti che purtroppo due giocatori sono stati ricoverati in ospedale il portiere Bifulco perché sono stati aggrediti da alcuni pseudotitifosi dico io dopo la partita è carretta quindi vedremo un po' quello che poi come evolverà la situazione a Matera comunque sono fatti da stigmatizzare e anche c'è stato c'è stata ieri sera sul Tardi l'ha intervenuto il presidente della Pogravina che praticamente ha dato la solidarietà così come il direttore sportivo Iodici dello stesso Matera ha dato la solidarietà ai calciatori ha detto che Matera è una città abbastanza civile si tratta solamente di alcuni fagginorosi non possiamo chiamare nemmeno Tifosio è giusto? detto questo vediamo forse abbiamo al telefono mi dicono mi fanno segnare la regia l'allenatore della Vibonese Sassà Campilongo pronto? sì buonasera buonasera mister grazie per essere intervenuto buonasera a voi grazie per essere intervenuto qui abbiamo con noi Luca Altomare te lo ricordi Luca Altomare mister? come no? ciao ciao Luca ciao ciao stiamo parlando del più e del meno dei fatti di Calabria calcistici abbiamo iniziato col Crotone abbiamo continuato con Cosenza stiamo continuando e poi naturalmente vorremmo sentire la voce di Sassà Campilongo per quello che abbiamo letto per quello che andremo poi a vedere dalle immagini televisive di questa partita che ha perso meritatamente mi ha visto la Vibonese a Lecce è entrato in campo poi a fine partita il presidente Caffo ha parlato solitamente non lo fa mai non ricordo mai che Caffo sia entrato in una sala stampa per parlare evidentemente ne ha ben dondo ne ha avuto ben dondo perché ha visto qualcosa che insomma Sì ma questo scusami se prego 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 mister ma ma perché non è la prima volta questa dopo questa di Lecce è stata l'indesima insomma delusione che abbiamo avuto dalla parte di una terna arbitrale perché c'era stata la settimana prima la partita con la Juve Stabia dove c'erano stati negati due rigori poi c'era stata l'espulsione anche di Caserta dove era stata ingiusta insomma abbiamo avuto un po' di torti nelle ultime tre quattro partite questo perciò ha fatto un po' arrabbiare deluso un po' il presidente per queste cose qua Cominciamo a parlare del rigore poi lo vedremo il rigore c'era non c'era l'espulsione di Silvestri c'era non c'era e il gol mi è sembrato un tantino in fuorigioco o mi sbaglio sono dalle immagini televisive che si riescono a notare certe cose ma io credo che il rigore in una circostanza del genere se tu non riesci a vederlo si si lo vediamo ci potrebbe no no dico se tu arbitro non riesci a vederlo ci potrebbe anche stare voglio dire perché il portiere lui questa è stata la sua diagnosi dopo ha detto che praticamente il portiere era era andato prima sull'uomo sul calciatore e poi aveva preso la palla a me mi è sembrato una cosa tutt'uno insieme calciatore e palla e quindi vabbè ma questo non è un problema ma l'espulsione voglio dire l'espulsione e il fuorigioco che secondo me è nettissimo lì che insomma siamo stati un po' arrabbiati anche perché voglio dire l'espulsione di Silvestri avveniva dopo nemmeno 4 minuti da un'ammunizione che c'era tutta per l'amor di Dio c'era tutta però la seconda non la puoi dare in quella maniera perché tra l'altro nell'anticipo c'è stato si sono un po' grovigliate le gambe tra Silvestri e l'attaccante e l'attaccante è caduto a terra che a me non mi è sembrato così eccessivo questo fallo lì lo puoi anche sorvolare è un discorso del genere e poi a 8 minuti alla fine e per quanto riguarda invece il gol vittoria del Lecce no io l'ho detto per me il fuorigioco ma non soltanto di Ciancio ma anche di ma anche di Marconi a me mi è sembrato più evidente quello di Marconi che era davanti a Manzo quando ha messo la palla dentro io credo che sia più quel a parte che i ragazzi che erano in linea che stavano facendo di scaldamento ha detto minimo c'era un metro davanti Ciancio quando ha ricevuto palla però questo vabbè ormai io tra l'altro non sono voluto andare nemmeno in sala stampa perché se andavo in sala stampa secondo me prendevo due o tre giornate di squalifica sicuro quindi è stato meglio così mister qui c'è Aldo Geno c'è anche Luca Altomare che ti vogliono salutare poi magari Luca se vuoi fare qualche domanda perché poi il mister ci parlerà di quello che come inquadra lui la situazione dell'alta classifica e quella del bassa classifica volevo solo chiederti ma è una riflessione che facevo io è normale che è penalizzante per una squadra che comunque sta lottando per tirarsi su è una squadra comunque viva la tua subire tutte queste ingiustizie non è facile è normale che un tecnico deve cercare di essere sempre lucido perché comunque bisogna portare avanti un discorso di portare ovviamente la nave in porto quindi soffermarsi sì sugli errori arbitrali che vi stanno penalizzando oltre misure però bisogna credo continuare a fare quello che è di buono la squadra alla fine ti sta dando quindi una squadra che ti segue una squadra che sta esprimendo un buon calcio quindi andare a Lecce e fare una partita importante non è da tutti ecco no no ma io condivido in pieno quello che dici ma infatti almeno io non mi soffermo su queste cose perché poi il calcio il calcio voglio dire è questo è stato sempre così e sarà sempre così però la cosa che mi rammarica di più è il buon lavoro che stiamo facendo e per tutta la settimana uno fa sacrifici ragazzi mi dispiace per i ragazzi di più perché alla fine tu lavori tutta la settimana ti concentri sul lavoro prepari bene la gara e poi per degli episodi magari che né i ragazzi né magari tu sei colpevolo di certe situazioni e invece poi vieni penalizzato ma solo per questo ecco perché noi ci arrabbiamo per certe cose perché dietro dietro alle sconfitte poi ingiuste c'è sempre un grande lavoro della squadra della società di tutti certo ci sono dei grossi sacrifici è vero sentiamo Aldo Ceno il nostro ospite Aldo Ceno per Campilongo poi gli voglio chiedere al mister e gli voglio fare un'altra domanda io volevo chiedere al mister noi in questa trasmissione spesso diciamo che la Vibonese è quella che nella classifica bassa è quella che gioca il New York Calcio e noi diciamo che probabilmente questa squadra poteva o potrebbe anche lei ritiene che questa squadra si possa salvare tramite i play out oppure direttamente oppure direttamente perché io ho visto qualche partita e onestamente questa posizione di classifica non la vedo per la Vibonese ma intanto bisogna dire una cosa importante che da quando sono arrivato ho avuto la massima disponibilità di questi ragazzi perché hanno fatto un grandissimo lavoro stanno facendo veramente delle cose grandissime il problema io dico cioè siamo siamo umili e siamo consapevoli che salvarci direttamente non sarà facile non sarà facile perché perché purtroppo abbiamo preso in queste sette partite le squadre di vertice abbiamo incominciato col Foggia abbiamo finito sabato con il Lecce abbiamo incontrato tutte le squadre le più forti Matera Cosenza Vestabbia Lecce Foggia quindi voglio dire Casertana quindi voglio dire abbiamo avuto anche un calendario che non ci ha non ci ha permesso di avere anche qualche partita un attimino più dove potevamo respirare e io credo che la squadra io sono sarei contentissimo di arrivare nella migliore posizione per poi giocare male nel play out però nel calcio nulla è perduto voglio dire non si possono dire oggi non mi riesco a salvare direttamente questo non lo possiamo dire è vero anche che stiamo facendo delle grandi prestazioni ma a volte le grandi prestazioni i complimenti non bastano è vero l'ultima cosa hai incontrato dicevi poc'anzi tu tutte le squadre dell'altra classifica compreso il Cosenza che impressiona il tratto delle prime della classe parlo del Lecce parlo del Foggia parlo della Juve Stabia del Matera stessa e poi una parolina anche sul Cosenza guarda allora io non so per un merito nostro nel momento in cui perde i meriti delle altre squadre ma noi abbiamo fatto sempre delle grandi partite è normale che poi queste sono squadre che hanno grandi valori perché se io penso che sabato abbiamo giocato contro il Lecce dove secondo me ha 22 giocatori che basta che 11 giocatori gli butti le maglie là e dice a chi se le prende oggi sono tutti forti voglio dire sono tutti giocatori importanti cioè c'hanno due squadre non una e lo stesso dicasi per il Cosenza per la Juve Stabia in questo momento magari c'è qualche squadra come Matera e Juve Stabia che stanno facendo un po' più fatica e il Cosenza che era con la cura di Anchez con Stefano aveva fatto bene 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 adesso magari magari ha avuto un attimo di 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 flessione ma io credo che queste cinque squadre sono forti sono un organico importante e credo che alla fine tutte queste squadre qua si giocheranno io dico le due squadre più forti secondo me sono Lecce e Lecce e Foggia che sono le quattro più accreditate secondo me allora grazie mister Campilongo per essere intervinto qui a noi a Repay su Ten in bocca al lupo si giocherà domenica dalla prossima settimana a Siracusa Siracusa Vibonese grazie in bocca al lupo per il futuro grazie arrivederci ciao Luca ciao ciao e allora torniamo in studio visto che ha parlato sasà Campilongo di quello che è successo nella gara di Lecce il nostro Gianluca Pasqua ci ha messo a fuoco la situazione del 2-1 del Lecce vedremo il rigore vedremo l'espulsione di Silvestre e poi vedremo il gol in fuorigioco andiamo con un po' di fatica il Lecce batte la Vibonese alla via del mare si conferma a capolista del gironi Cilega Pro giallorossi partono subito forte dopo un gol annullato per dubbio fuorigioco a Dumbià passano pochi minuti dopo con un rigore di Pacilli guadagnato dal solito Dumbià quando i salentini sembrava in assoluto controllo Viola ristabilisce la parità con un tiro alla distanza che sorprende Perrucchini di lì il Lecce sembra perdere la sua vera offensiva e rischia di non venirne a capo la svolta arriva quando Silvestri in tentativo di bloccare Marconi si becca il secondo giallo che gli vale l'espulsione 5 minuti dopo arriva il gol vittoria triangolazione mancò su Cianciu Marconi con l'ex attaccante e Alessandria che trova il gol vittoria il secondo consecutivo in giallo rosso Enzo scusami siccome qui sia Luca Altomare che Aldo Cennom hanno visto il gol in fuorigioco lo vogliamo far rivedere con il replay giusto l'ultima zoomata perché si nota proprio così tantissimo che i due giocatori del Lecce o no Luca erano entrambi in fuorigioco parte in fuorigioco probabilmente no mi sono soffermato solo sul terzino di Goliath e vediamo giù Marconi con l'ex attaccante e Alessandria andiamo un attimo indietro il replay un attimo indietro quando parte il cross che il giocatore del Lecce si porta avanti la palla con il petto però mi sembra che Campilongo voglio dire aveva tutte le ragioni di questo mondo ha sostenuto non solo andato in sala stampa eccolo qua guarda Franco guarda come è fuorigioco detto fuorigioco io penso di no penso di no perché noi vediamo quando la palla arriva il giocatore era già in movimento no no io dico poi il passaggio il secondo passaggio come dice come sostiene Campilongo il secondo passaggio mi sembrava un fuorigioco perché quando la palla è partita era già in fuorigioco solo rivediamo guarda 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 si 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 è mezzo è sicuramente con la spalla un po' più avanti Luca è la spalla e lo scarpino più avanti se c'è di forma immagine potete vedere quando parte la palla secondo me è fuorigioco ecco perché non è andato poi Campilongo in sala stampa perché dice al di là del fuorigioco penso che sia comunque era evitabile ecco prendere quell'infilata da parte del terzino ma questo si questo è un altro discorso era una squadra schierata era messa bene sulla linea sulla linea dell'area di rigore insomma prendere un'infilata del genere è un peccato al di là poi del fuorigioco e ci può stare o non ci può stare allora Campilongo ha parlato dice se la giocheranno alla fine caro Aldo Lecce Foggia poi voglio sentire anche Luca Altomare ma io l'avevo detto l'altra settimana sei anche tu d'accordo l'altra settimana avevo parlato di questo io sono perché qualche chance piccola chance in più ce l'ha in Lecce rispetto al Foggia le altre squadre Matera Juve Stabia ormai 9 punti se difficilmente li puoi recuperare con un Lecce che ha avuto un momento di grande difficoltà perché anche il Lecce ha perso qualche partita anche in casa poi si è ripresa alla grande adesso è una lotta a due due punti di stacco 56 il Foggia 58 il Lecce sono lì io alla fine penso che il Lecce abbia qualche chance in più tutti gli altri si sono accodati il Matera in una grandissima difficoltà ieri 4-0 in casa con il Siracusa ma veramente Auteri secondo me ho detto l'altra volta che potrebbe saltare ma probabilmente non lo cacciano perché pensano di fare i play-off e di vincere poi i play-off oppure come c'è la Coppa Italia perché poi tu sai che la Coppa Italia consente eventualmente la vincesse il Matera noi potremmo potremmo essere le squadre che vanno a fare i play-off sono 11 non più 10 è tutta una storia che deve andarsi ancora a rimescolare ma onestamente questa partita tra Lecce e Foggia si potrebbe concludere all'ultima giornata con una leggerezza per quanto mi riguarda di favore nei confronti del Lecce sentiamo Luca Altovano invece penso che ancora i giochi sono aperti di scontato non c'è niente non c'è niente perché comunque in una fase così complicata del torneo vedi il Matera che prima era primo in classifica ha avuto la flessione la Juve Stab ha avuto la flessione credo che il Foggia forse un pochettino l'ha avuta adesso si sta riprendendo però ancora non è chiuso il campionato non è chiuso perché la Lega Pro ci ha abituato a questi cambi di vertice quindi credo che bisogna stare sempre con le antenne dritte perché se Lecce non avesse avuto comunque questi episodi diciamo ma sono tanti Lupe non avrebbe vinto con la Viponese che comunque con tutto il rispetto ma tra materia e Lecce sono 11 punti no 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 sto dicendo che comunque parlava anche di episodi a favore del Lecce il presenza aveva segnato vinceva una 0 a Lecce lo ricorderanno tutti i nostri amici che seguono a casa il tiro di Gambino l'arbitro fisca con la palla in rete poi il Lecce è statisticamente provato che ogni gara che gioca gioca sempre 11 contro 10 perché c'è sempre un giocatore della squadra avversaria che viene espulso è successo adesso alla Viponese a Silvestre è successo domenicalmente basta andare a vedere i tabellini quindi un certo dimore reverenziale io lo noto è inutile stare qui siamo comunque nel girone di ritorno e quando si iniziano poi col fatto dei playoff che ci sono più posti a disposizione non è che vai al girone di ritorno come si faceva una volta vado nella squadretta demotivata e quindi riesco a vincere facile non è facile perciò dico che secondo me quest'anno sarà ancora più difficile riuscire ad arrivare fino alla fine perché è tutto dentro ancora alto anche se sono molti punti tutto dentro io volevo introdurre il discorso che poc'anzi abbiamo toccato ma abbiamo solo sfiorato questo disamore del tifoso rosso-blu verso il Cosenza Calcio 900 solamente i pagani chiedono al presidente un obiettivo il presidente come trasparenza e legalità non gli si può chiedere nulla perché è un presidente che come ha sempre sostenuto caro Luca Aldo paga con puntualità gli stipendi non gli si può dire nulla solamente grazie però il popolo rosso-blu probabilmente chiede un obiettivo come dicevo prima nel campionato dell'ambizione di vertice di un come dire di un mettere a fuoco una situazione dice vabbè quest'anno noi ce la giochiamo fino alla fine che non è possibile che a 10-11 partite dal termine del campionato lo stadio San Vito Marulla insomma l'abbiamo visto tutti era vuoto contro l'unico Sanofondi Aldo tu ne hai sempre parlato del presidente hai sempre parlato di programmazione hai sempre parlato praticamente di programmare perché il verbo che si attanaglia al calcio e programmare come la vedi tu hai toccato un tasto secondo me che incomincia anche in questa trasmissione devi incominciare a prendere i piedi caro Franco perché noi non possiamo trascurare e non immaginare che questa squadra questa società non incominci a programmare per il prossimo anno programmare significa dare un segnale forte anche alla tifoseria che ormai è disamorata cioè bisogna incominciare a far capire alla tifoseria quelli che sono i progetti e le prospettive del cosenza calcio perché se è vero che ci sarà anche tra tre o quattro anni uno stadio nuovo come abbiamo saputo e se lo facciamo lo facciamo perché si vuole anche in questo andare penso che più in alto di quello che adesso siamo ma è chiaro che il presidente Guaraccio che è uno che secondo me ormai si è affezionato tantissimo al calcio e anche al cosenza calcio perché i sacrifici che fa secondo me poi alla fine devono portare a qualche risultato secondo me devi incominciare a programmare per il futuro e pensare di cosa bisogna fare da grande secondo me se mi potessi permettere con tutta l'amicizia e con tutta l'umiltà che ci contraddistingue sempre io un consiglio al presidente glielo vorrei dare il consiglio il consiglio che le do è di andare in una trasmissione televisiva o fare una conferenza stampa e dire ai tifosi alla città alla provincia tutto quello che c'è e vi è dicendo che il cosenza quest'anno se farà i playoff come farà i playoff dal prossimo anno in poi si programma a tal punto che si punta senza l'alsuna più ormai amminizia che ci potrebbe essere a puntare alla serie B e quindi avvingere il campionato della prossima Lega Pro e puntare in alto così probabilmente probabilmente dico si manda un segnale a questa tifoseria che è fortemente attaccata che sta soffrendo si vede proprio che se tu vai nella città c'è proprio c'è un fermento che fa spavere lievita qualcosa che basta una scindilla per fare di nuovo scattare quella molla e di riportare la gente al campo perché nelle prospettive futuro se il cosenza e se il presidente avrà questa umiltà come ce l'ha perché è un presidente molto attento secondo me il cosenza può ricominciare da capo e probabilmente può motivare anche questi giocatori che oggi ci sono che sono giocatori bravi ma che onestamente qualche appannamento lo stanno avendo anche loro insomma Luca Altomani tu hai giocato tra le altre anche a Cosenza e quindi conosci benissimo il popolo rosso-blu i tifosi rosso-blu che in questo momento come dice Aldo effettivamente hanno un po' di di rammarico come dire hanno contestato in maniera civile il pensiero di Aldo non solo lo condivido ma è un pensiero importante che penso debba essere debba arrivare a destinazione la programmazione adesso è determinante io credo non solo nel mondo calcistico ma anche in quello aziendale in quello ovviamente di vita quotidiana se non c'è organizzazione difficilmente si possa arrivare a determinare un qualcosa di importante quindi una programmazione ci deve essere che sia una programmazione di crescita a livello di giovani che sia una programmazione abbincita di campionato io questo non lo so non so il presidente cosa abbia in mente però io credo che ci debba ci debba essere perché il tifoso deve sapere questa società che cosa ha in mente una volta stabilita questa programmazione ovviamente si deve affidare a persone competenti che io ovviamente che in questo momento già ci abbiamo c'è una persona come Avalotti che se il presidente ovviamente l'ha chiamato presumo che abbia avuto le referenze giuste tutte le carte in regola per aver combinato il matrimonio quindi affidare a una persona come lui le chiavi di questa società e dire in tre anni ho voglia di riportare questa società questi tifosi in un campionato più importante che è quello della serie B il discorso che si fa in giro è bello sapere che comunque c'è una società che paga a livello puntuale però io da calciatore penso che comunque c'è bisogno di stimoli andare in una società dove so che comunque mi paga che devo fare il mio compitino e ritornare a fine mese questo poi è un discorso del tutto normale una società che paga perché altrimenti prende i punti di penalizzazione quindi è normale che una società debba pagare nei tempi stabiliti è una cosa che un presidente deve fare deve fare è un obbligo però il calciatore deve andare oltre ecco quello che è l'essere pagato puntuale deve comunque scendere in campo fare il professionista andare oltre andare oltre vuol dire cercare di raggiungere gli obiettivi prefissati ad inizio stagione quindi il tifoso è questo che è lo che chiede è quello che ha sempre chiesto da quando giocavo io è quello di dare sempre il massimo perché il tifoso è intelligente sa quando un calciatore dà il massimo e quando la gamba come si diceva una volta non la mette oltre tutto il pubblico di cosenza c'è un po' il palato fine insomma ok allora ci fanno segno alla regia diamo subito spazio alla rete per i consigli pubblicitari state con noi perché nella terza parte andremo a vedere poi quello che sarà il prossimo turno sentiremo le parole di Karel Zeman dopo il 3 a 3 maturato a Castellammare di Stabio un ottimo risultato per la regina e poi parleremo anche della sconfitta del Rende pubblicità ottimo il pareggio dicevamo prima di andare in pubblicità della regina di Karel Zeman che oltretutto ha cambiato modo l'è passato dal 4-3 al 3-5-2 ha robustito il centrocampo anche la difesa in chiave appunto quando poi non possesso diventa 5 e dal 3-1 è riuscito ad arrivare poi al 3-3 alla fine dei 90 passi minuti di gioco purtroppo non abbiamo le immagini abbiamo però l'intervista di Karel Zeman che parla di questo pareggio ottenuto a Castellammare di Stabia contro la Juve Stabia di Mister Fontana sentiamo cosa ha detto Karel Zeman Soprattutto alla fine del primo tempo era assolutamente insperato uscire di qua con qualche punto ovviamente vorrei cancellare l'ultimo minuto ed essere il più felice della terra purtroppo l'ultimo minuto c'è stato quindi un po' di arrabbiatura c'è Ecco l'andata lei ha fatto i complimenti alla Juve Stabia soprattutto per il primo tempo espressa da Juve Stabia possiamo dire che c'è la similitudine fra quella partita e questa c'è solo la differenza che ovviamente qui si sono divise la posta in palio in quel caso la regina invece aveva vinto però ecco una Juve Stabia che si sa far male da sola e spreca tanti l'attacco Sì forse è stata un po' diversa nel senso che forse all'andata non me l'aspettavo e li ho visti giocare a memoria con grande velocità proprio nei fraseggi e questo oggi non l'ho rivisto al 100% era più una velocità legata alle qualità dei singoli mentre nel girone di andata giocavano meravigliosamente bene Civolone Colleccia lei ha dichiarato che oggi bisognava reagire prima nella prestazione poi nel risultato diciamo che il risultato è arrivato può partire da qua il cambiamento di rotta in chiave salvezza sì sì anche se nella situazione in cui siamo un punto alla volta non si va molto lontano ci serve un successo però ovviamente per l'avversario la caratura dell'avversario che incontramo oggi sicuramente è un risultato eccezionale soprattutto dopo essere andati sotto i due gol credo per quanto riguarda le prestazioni tranne nel secondo tempo contro il Lecce ultimamente la squadra abbia fatto sempre bene tranne nel secondo tempo contro il Lecce ha detto la squadra ha fatto bene ha fatto bene caro Luca Altomare pure a Cosenza questa regina non mi è dispiaciuta cioè non è da ultimi posti se vogliamo no non mi è sembrata non mi è sembrata anzi è una squadra solitamente che deve salvarsi non lo so cerca di imporre il suo gioco in modo diverso magari sulle seconde palle invece è una squadra che ha cercato di giocare a calcio questo mi riferisco alla partita nel derby anche in modo in modo lineare in modo pulito e quindi a parte poi magari il regalo fatto in un momento delicato della partita di Caccetta a Coralli ma quelli sono episodi il fatto che comunque un allenatore possa cambiare modulo denota comunque in un certo senso anche lucidità cerca di mettere a disposizione mettere in condizione soprattutto i calciatori di rendere al massimo quindi vuol dire che se ha cambiato modulo è perché probabilmente voleva assicurarsi una buona prestazione lì a Castellammare come in effetti è avvenuto perché perdeva 3 a 1 la regina poi aveva segnato Bangu poi doppietta di Marotta gol di Ripa se non erro e poi De Vito il nuovo arrivato insomma l'ha portato sul 3 a 2 e poi Leonetti 3 a 3 che ha avuto sui piedi anche la palla del 4 a 3 l'ha sciupata incredibilmente e lì Zeman la frecciatina gliel'ha mandata al suo calciatore Aldo come diceva Luca è chiaro che adesso la regina con questo punticino che ha fatto a Castellammare le stabie perché onestamente anche la Juve stabia non è che abbia in questo periodo fatto vedere grandi cose però aveva vinto la domenica precedente a Vibo magari non meritatamente con quel gol in mischia io penso che il fatto che abbia cambiato modulo di gioco probabilmente lo ha portato a capire che ci sono alcune situazioni che quando incontri queste squadre che sono di alta classifica ti devi anche adattare cercare di fare di aprirti il meno possibile di stringerti più in difesa e a centrocampo e cercare poi di infilarlo come è successo con i tre gol che ha fatto e con il quarto che poteva fare perché se usciva la regina da Castellammare con un risultato pieno probabilmente da 24 si portava a 20 però però posso dirti tranquillamente che questa squadra onestamente da qualche domenica a questa parte incomincia a convincermi sempre di più che questa squadra si salverà tranquillamente senza i play out la regina è la squadra che sta recuperando anche gioco posizioni e anche umiltà sta giocando con grande umiltà perché sa di essere una squadra ripescata in questa categoria adesso probabilmente le cose anche a livello societario si sono un pochino meglio assestati e la regina incomincia a prendere coscienza che probabilmente può arrivare ad una salvezza senza passare dai play out perché i play out come tu sai Franco è un dernallò mi dicono dalla regia che dovremmo avere il gol di Magnaghi se non erro quello col quale il Taranto ha battuto il Catanzaro un raso terra in diagonale vediamo un attimino dovremmo avere il Taranto eccolo qua vittoria importantissima in chiave salvezza per il Taranto che grazie a un gol di Magnaghi batte il Catanzaro per 1 a 0 salendo a quota 28 in classifica distanziando di 4 lunghezze la zona play out e propri calabresi che restano con 24 punti al quintuntivo posto in compagnia dell'Akragas per gli Ionici si tratta del terzo risultato utile consecutivo da quando è arrivato Ciullo tutto da rifare invece per il Catanzaro che commette un passo falso dopo l'importante vittoria ottenuta contro l'Akragas sette giorni fa una vittoria e una sconfitta per Erra sulla panchina del Catanzaro perché aveva vinto come ha ben detto Gianluca Pasqua per 1 a 0 contro l'Akragas e poi c'è stato questo stop caro Luca a Taranto a uno scontro diretto se vogliamo bisognava dare continuità dare continuità però parlando con Erra sostiene che c'è tanta la palla scotta mi diceva nei giorni scorsi sui piedi dei giocatori del Catanzaro perché è una posizione di classifica un po' particolare hanno cambiato 4-5 allenatori la piazza che rumoreggia non è una situazione facile una polveriera c'è stata mi riferivo alla continuità magari avendo avuto continuità di risultati è normale che i calciatori acquisiscono sicurezza tranquillità quindi la palla nei piedi probabilmente come diceva Erra diciamo scotta un po' di meno e quindi deve deve cercare di infondere maggiore sicurezza sì di infilare qualche risultato utile consecutivo per abbassare ovviamente o alzare l'autostima nei calciatori ci mancherebbe Aldo poi andiamo a vedere il prossimo turno parleremo del Cosenza della trasferenza Cosenza Pagani si è fatto male da solo perché con una diretta concorrente come il Taranto è andata a perdere un a zero mettendosi adesso in una situazione un pochino particolare a Taranto io pensavo che il Catanzaro a Taranto avesse avesse fatto risultato ma il Taranto in casa incomincia anche il Taranto adesso prendere coscienza quindi il Catanzaro è una difficoltà la vedi dura enorme io la vedo molto dura per il Catanzaro perché queste sconfitte con le dirette concorrenti sono sconfitte che probabilmente ti portano anche poi ad essere psicologicamente handicappati rispetto a quello che può essere la partita che giochi in casa perché tu puoi in casa quando giochi una partita adesso Catanzaro domenica giocherà con un'ansia terribile perché se Dio non voglia non dovesse vincere ancora di più i quattro punti di distanza dai play-out si allungano Franco è diventa una situazione drammatica e quindi eventualmente il Catanzaro deve stare attento il Catanzaro benissimo allora vediamo Enzo Leonetti deve stare attento abbiamo capito e se abbiamo il prossimo turno della Lega Pro lo andiamo immediatamente a leggere e ci soffermiamo chiaramente sulla partita del Cosenza in trasferta Catania-Melfi e qui il Catania potrebbe aggiungere altri tre punti quindi l'ottavo posto il nono lì bisogna è diventatura perché ho visto poi andiamo a vedere la classifica caro Luca perché anche per il decimo posto l'ottavo non è decimo lì c'era una grande battaglia stanno accelerando tutti Catania-Melfi Catanzaro-Matera come ti dicevo Fidelisandri-Akragas Foggia-Juve-Stabbia questo è uno scontro molto importante fondi unico sono fondi Taranto Messina-Monopoli Paganese-Cosenza Regina-Casertana Siracusa-Vibonese Francavilla-Lecce Francavilla-Lecce lì vabbè andiamo a vedere la classifica così ne parliamo tu dici perché hai detto Francavilla-Lecce poi te lo spiego a fine puntata andiamo a vedere un po' andiamo a vedere un po' quella che è la classifica generale caro Enzo Leonetti così possiamo soffermarci ecco il Cosenza dovrà giocare abbiamo detto a Pagani la Paganese che ha 33 punti quindi Luca vedi un attimino lì come è messa la situazione cortissima la classifica molto corta il Lecce 58 se fosse finito oggi il campionato sarebbe direttamente in serie B poi Foggia 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fino alla Fidelisandria e lì dietro stanno accelerando Cosenza che in questo momento come dire sta giocando col freno a mano tirato per quanto riguarda i risultati il Fondi a 39 Catania che ha vinto il derby contro il Messina per 2 a 1 quindi 39 punti il Siracusa che ha vinto per 4 a 0 un risultato che ha fatto clamore e ha fatto succedere quell'ira di Dio lì a Matera a Caroaldo e il Cosenza che doveva giocare a Paganese secondo te si può sentire salva rispetto a... io ti dico una cosa se tu guardi bene la classifica e la stiamo vedendo la stiamo vedendo rimandala Enzo per favore se tu guardi la classifica ci sono il Cosenza va bene è l'ultima siamo sesti in condominio con altre 4 squadre poi abbiamo Casertana a 39 c'è il Siracusa a 38 se domenica il Cosenza a Pagani non vince tu rimetti anche in gioco la Paganese potresti rimettere anche in gioco e qui tu ti trovi che al posto al momento Fidelissanti e Siracusa chiudono una delle due poi deve andare via e tu hai un punto in più però Franco domenica noi ci giochiamo a Pagani una bella fetta di restare tra il quinto e il sesto posto perché abbiamo visto i scontri Catania giochi in casa con il Melfi Franco mi pare che non ci sono sulla carta non deve torniamo in studio la Casertana gioca cioè noi siamo una delle squadre che va fuori casa tra quelle in alto per restare nel decimo posto stai dicendo ai giocatori all'allenatore al Presidente non dilapidate il decimo un posto playoff no Luca è questo che sta bisogno io per esempio Andrei Andrei anche un paio di giorni di ritiro per questa parte di Pagani non so che effetto farei il ritiro ma li porterei anche in ritiro se è necessario fare un mini ritiro non sarebbe male se bisogna bisogna amalgamare il più possibile le forze dallo sfogliatore sentiamo Luca Altomare io come se mi posso permettere un consiglio che darei se fossi io adesso ma chi è i calciatori e non vedere la classifica perché è inutile è inutile no 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 vedere la classifica adesso è possibile Luca non vedere la classifica e a volte sì perché ti devi concentrare esclusivamente ma perché penso che ho a che fare con calciatori intelligenti professionisti e quindi penso che loro sanno l'importanza di questa gara al di là del se può rientrare o non rientrare la Paganese questa è una partita delicata delicata per il momento che sta attraversando anche il Cosenza quindi ritrovarsi cercare di capire che cosa in questo momento si può fare perché si può fare sicuramente si può fare molto di più di quello che il Cosenza sta facendo perché l'abbiamo visto nelle partite con Matera nella partita Francavilla in defrangenti anche nel derby si è visto comunque una squadra che quando si muove con i tempi giusti riesce a far male qualsiasi difesa quindi si deve ritrovare questa squadra attraverso un risultato importante potrebbe essere questo qui di domenica quindi Aldo potrebbe essere perché non dimentichiamo e noi ce l'auguriamo lo sottolineiamo sottolineiamo che Cosenza era privo di elementi importanti come Letizia che era squalificato lo stesso corso è squalificato Danna dovrebbe riprendere dalla prossima settimana quindi si riprenderà a martedì domani così come Pinna che De Angelis su Pinna ha detto che lo porterà sicuramente in panchina quindi è un grande recupero è un grande recupero e la squadra anche l'assenza probabilmente di Letizia si è sentita quindi come diceva anche Aldo Cennam è una partita importante quella di Pagani questo è tutto per quanto riguarda la Lega Pro e adesso andiamo a parlare nei minuti finali negli ultimi dieci minuti di quello che succede nel Gironei e appunto della Serie D il Rende purtroppo ha perso nell'anticio contro il Gioia Vistos per 1-0 con un gol segnato da Longo e andiamo a vedere i risultati che si sono registrati nel fine settimana Castrovile di Gragnano 0-0 a Cava in presa della Sicola Leonzio di Ciccio Cozzo di Mister Cozza 2-0 poi vabbè frattese due torri 3-0 a Tavolino e Claudia Torraversa Normanna 2-2 in questo in questo derby campano poi come dicevamo il Gioia Virtus batte Rende 1-0 col di Longo a un quarto troppo dal termine Palmese batte Gela 4-2 Rocella Pomigliano 2-1 Sarnese Turris 1-0 per la Turris in questo derby campano e poi a Sersale la San Cataldese ha battuto il Sersale per 2-1 andiamo a vedere la classifica punto generale che vede al comando la Sicola Leonzio con 55 punti i Gioia Virtus questo affermiamoci qua i Gioia Virtus 51 KVS 50 poi Geler rende 44 quindi in questo momento la Sicola Leonzio sarebbe in Lega Pro e poi andrebbero ai playoff i Gioia Virtus KVS e Geler rende però c'è da tenere conto che Turris e Palmese stanno rientrando alla grande perché hanno vinto 43 punti nella Turris ricordiamo gioca Domenico D'Anti ex giocatore del Cosenza Frattese 37 Gladiator 36 San Cataldese 35 Povigliano 34 Gragniano 32 Versa Normanna 28 Rocella 24 Sarnese 19 Cassovillari 18 Sersale 8 due torri vabbè stata cassata e purtroppo caro Luca Altomare nelle ultime posizioni della classifica ci sono le squadre calabresi c'è la Rocella c'è il Cassovillari c'è anche il Sersale che in questo momento ultimi in classifica con 8 punti e allora andiamo a parlare di questo Rende Luca Rende che non sta attraversando fino al periodo poi sta perdendo terreno nell'ultimo periodo specialmente per le partite che sta perdendo in casa Lorenzo infatti secondo me ha segnato molto quella partita persa 3 a 0 in casa contro il Gladiator ho avuto diciamo il piacere di vedere anche se mi è dispiaciuto per come per come sia andata trovo queste sono sono categorie difficili attraverso i momenti di esaltazione a momenti dove dove ti impegni giochi però la palla non ne vuole sapere su alto mare per cortesia non ne vuole sapere di entrare la palla comunque sta di fatto che il Rende sta facendo comunque un ottimo lavoro lo stanno facendo già da diversi anni speriamo che possa entrare nei playoff sì ma io credo che credo che alla fine ce la faranno perché riusciranno a trovare diciamo quello che in questo momento sta mancando quindi la fiducia credo che sia immancabile avere verso verso chi sta facendo da anni ripeto un ottimo lavoro mi auguro che alla fine riescano anche quest'anno a raggiungere i playoff e chissà magari volevo farti una domanda sulla Sicola Leonzo di Giscio Cozzo perché è arrivato poi in corsa è stato cambiato l'allenatore aveva preso lui la squadra di Lentini in Sicilia ha chiesto garanzia al Presidente lì il Presidente è abbastanza facoltoso gli ha messo a disposizione una gran bella rosa che potrebbe figurare tranquillamente in Lega Pro te lo aspettavo che si esplode la Sicola? no 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 non me l'aspettavo assolutamente ma credo come non me l'aspettavo io neanche Cavese neanche Giavirtus e quindi ha dimostrato una forza e quindi vuol dire che la squadra è una squadra di tutto rispetto e credo che se alla fine è in testa e guarda tutti dall'alto vuol dire che stanno facendo un ottimo lavoro Aldo Cennomo tu la prima volta abbiamo avuto ospite qui Brunello Trocini abbiamo parlato del meno sei amico io conoscendo bene Brunello preoccupato secondo te di questa situazione lo conosco molto bene Brunello lui è uno di quelli che quando perde soffre moltissimo perché è un oratore che ha fatto bene sta facendo bene a Rente si vede sfuggire una classifica nel giro di 4-5 domeniche che era vedeva il Rente protagonista si pensava così come aveva dichiarato il presidente del Rente che si potesse arrivare direttamente a vincere questo campionato invece dalla partita ha perso in casa con la frattese mi pare 3-0 con la gladiatore scusi e poi ha perso il derby con la palminia sull'Azer il Rente ha subito purtroppo una metamorfosi che non è riuscita più ha perso modesto per infortunio poi ha perso anche un'altra partita in casa però teniamo presente che il Rente 44 ha 3 punti perché tutti gli altri che sono in alto hanno giocato non hanno giocato la partita perché tu sai quella classifica purtroppo viene falsata da questa squadra quindi rende a 47 punti sarebbe a 47 penso che i playoff dovrebbe assolutamente farli però in queste ultime domeniche che rimangono io conoscendo Brunello conoscendo anche Coscarella il presidente che hanno fatto e stanno facendo un ottimo lavoro penso che adesso stringeranno molto di più la situazione andranno a verificare in questa settimana quali sono stati i motivi che hanno portato a Rente ad avere questo affrosciamento chiamiamolo affrosciamento e via dicendo perché secondo me alla fine il Rente potrebbe riprendere la corsa e quindi andare ai playoff senza affanno come io mi auguro insomma ecco benissimo grazie Adaldo c'è una comunicazione di servizio mi aggiunge adesso una mail che l'unico sono fondi poi durante la trasferta per tornare a casa si è fermato a Lungro perché a Lungro per la squadra della ricerca scientifica perché insomma poi i fondi arrivano da lì hanno formato un club che si chiama Unicusano Fondi si sono fermati con le parcare di Lungro sono andati in chiesa e poi chiaramente sono andati a salutare questi amici che hanno messo su a Lungro questo club a favore dell'unico Sanofondo hai visto la ricerca scientifica dove arriva? ma perché il presidente del Lungro il sindaco di Lungro mi pare che uno che anche ogni tanto era doveroso dare questa notizia hai fatto bene sono cose sono cose che importantissime fanno bene al calcio ma fanno bene anche a tutti i resti benissimo voglio aggiungere qualcosina perché siamo nei minuti finali vuoi dire qualcosa su questa visita se questo club suona un po' diciamo c'è un club di calabria di sostenitori è una cosa strana però insomma diamo qualcosa che vada anche al di là del calcio una società che sostiene questa ricerca scientifica tanto di rispetto tanto di cappello quindi vuol dire che era una sosta doverosa da fare mi diceva Stefano De Angels che salutiamo alla vigilia della partita dice questa è una squadra che gioca un buon calcio in questo momento gli addetti ai lavori dicono che l'Unicosano Fondi gioca forse il miglior calcio forse meglio del Lecce perché poi il Lecce tutto sommato anche se come ha sostenuto nel servizio già il collega Gianluca Pasqua stringendo i denti alla fine comunque il risultato a casa te lo porto un aiutino il rigore l'espulsione c'è sempre qualcosa che poi anche se come diceva Sassà Campilongo ha 20 giocatori 25 giocatori di grande qualità però dicevo l'Unicosano Fondi secondo De Angels si gioca con la mente libera e ha ragione perché spettatori allo stadio non ce ne vanno ce ne vanno pochissimi 4-500 e quindi non hanno quelle pressioni che può avere dicevo una piazza come Cosenza tu del resto hai giocato a Napoli con Maradona quindi figuriamo preferisco giocare sempre con tanta gente ma perché ti da stimoli diversi che giocare in un ambiente dove gli stimoli devi trovare dentro di te quindi io preferisco sempre come dire avere un po' di pepe addosso perché ovviamente ti riempie di carica è vero di fatto sabato lo stadio del San Vito veramente era io avevo un dolore al cuore vedere gli spalti vuoti quello di cui vuoi parlare prima e vedere quei tifosi che sono esemplari che hanno ingobbiabili fino all'ultimo e poi non ce l'hanno fatta più perché poi sa ti viene anche al tifosi i fischi i fischi giusti come hanno detto sia De Angels probabilmente di rabbia di rabbia non perché di rabbia perché hanno visto alcune cose che non andavano purtroppo però onestamente questo potrebbe essere d'aiuto io onestamente l'ultima cosa Aldo mancano 30 secondi abbiamo chiuso ai 30 secondi che abbiamo chiuso io penso che quella palla di Cavallaro nell'ultimo minuto del primo tempo se l'avesse passata a Statella che veniva con i sei con i mani si fa il calcio saremmo andati con il 2-1 e la partita avrebbe preso un'altra piega però Franco guardiamo con i sei di mano non si vada nessuna parte scusami una chiosa finale così da Cosentini da tifosi ovviamente ci teniamo che il Cosenza vada sempre avanti quindi credo che ci voglia molto ottimismo dobbiamo guardare le cose con ottimismo avere fiducia negli addetti ai lavori quindi mi riferisco al presidente che è sopra che vigila soprattutto nel direttore sportivo nell'allenatore e nei giocatori ovviamente che debbano dare sicuramente di più di quello che stanno dando adesso grazie 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 allora Luca Altomare grazie a te Aldo Genno siamo giunti ai saluti finali anche per questo lunedì 27 febbraio replay da parte di Franco Segreto e tutto noi ci rivedremo questa sera in replica caro Aldo alle ore 21 se la vuoi guardare la televisione ok ci rivedremo lunedì oggi questa è bella non c'è gol e gol perché il nostro Gianluca Pasqua è fuori sede e noi ci rivedremo invece lunedì prossimo sempre alle ore 15 sempre data l'Europa Network è tutto da parte di Franco Segreto arrivederci a presto